Prosegue spedito l'iter di approvazione del progetto di recupero funzionale del Teatro Romano di Deramne a Teramo. Il sindaco Gian Guido d'Alberto a Roma ha incontrato presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'architetto Dora Di Francesco, dirigente del Ministero, alla presenza anche della direttrice della soprintendenza Rosaria Mencarelli e del responsabile della procedura, l'architetto Gianni Cimini. Un incontro utile per fare il punto della situazione e per dare nuova accelerazione all'iter amministrativo istituzionale per la realizzazione di un'opera importante attesa da tanti anni in città. Ha confermato il finanziamento però, evidenziando come i ritardi che sono stati accumulati, colpevoli per l'inerzia degli anni precedenti, impongono adesso di non poter sbagliare più innanzitutto nel percorso e soprattutto di stringere i tempi che ci porteranno da qui alla fine del mese di marzo all'approvazione in Consiglio Comunale del preliminare con l'indicazione delle direttive per il definitivo e poi proseguire con il definitivo da avere prima dell'estate. Abbiamo avviato come è noto una fase partecipativa importante, anche critica, insomma di riflessioni, non di contrapposizione perché non c'è stata alcuna contrapposizione, tutt'altro c'è una condivisione sostanziale, almeno nelle osservazioni che sono state formulate nel recupero pieno e funzionale del teatro attraverso l'abbattimento dei due palazzi che è la priorità. Una se è un coinvolgimento importante, tutte le osservazioni ovviamente saranno vagliate insieme a quelle istituzioni della sovrintendenza e saranno sottoposte all'esame poi per l'approvazione del progetto definitivo. I tempi ribadisco sono stretti, abbiamo una spinta forte da parte di tutta la città, una volontà comune, condivisa e soprattutto la consapevolezza che anche ieri è emersa, questo io lo devo dire perché siamo tutti responsabilizzati a dedicarci a questa azione di recupero piena e funzioni del teatro romano che questo è veramente l'ultimo treno, se dovessimo perdere questa occasione difficilmente ce ne saranno altre.